Sarà ancora Natale e il musical scritto e diretto da Domenico Falabella che verrà messo in scena il prossimo 22 dicembre a partire dalle 21 presso il Cineteatro Ferrari di Sapri. Uno spettacolo musicale che coinvolgerà oltre 50 persone tra attori, ballerini e cantanti. Insieme a loro ci sarà il noto attore cabarettista Franco Guzzo. Tantissimi gli effetti speciali previsti per stupire grandi e piccini. Un musical che metterà in risalto il tema degli ultimi e di tutti coloro che sono i margini della nostra società. Uno spettacolo, spiega Falabella, che mira a far riflettere tutti sul vero senso del Natale e sui bisogni dei più deboli. Una riflessione che sarà accompagnata da un mercatino di beneficenza, che sarà allestito all'ingresso del cinema dall'Istituto Comprensivo Santa Croce. Sarà aperto al pubblico dalle 16 del pomeriggio. Il ricavato verrà consegnato durante la serata al Vescovo Monsignor Antonio De Luca, che dovrà utilizzarlo per le esigenze caritevoli della Diocesi di Tegiano Policastro. Ed è con questo appuntamento che l'ATES chiuderà le attività del 2018.